che va del suo contratto ha voluto chiamare il misuraio che va del suo contratto ha voluto prestare denaro solo per carta cristiana che va del suo contratto mi ha maltrattato e defraudato di mezzo milione gioiti dai miei perdi allontanati i miei amici sanziati i miei nemici perché sono ebreo non ha occhi di ebreo non ha male di ebreo ha organi, consistenza, senza, affetti, passioni non si nutre dal stesso cibo non ha ferito dalle stesse armi non soffre dalle stesse malattie non ha curato negli stessi rimedi scaldato, ghiacciato dalle stesse malattie dalle stesse estate di un cristiano e se ci pungete non facciamo sangue se ci fate soletico non ridiamo se ci abilena non moriamo se ci fate torto non ci vendiamo se siamo voi quattro perché non somigliare di questo se un ebreo fa torto che sia da chi si ruoge la sua carità alla vendetta se fa torto all'ebreo quali sempre le vasi di sopportazione gli imbossa un cristiano perfetto sono vendetta e io mettere in pratica la malattia che ci insegnate e non sarà difficile che gli avranno anche uno oltre per l'altro insegnamento non ci vediamo